Un caro saluto da Mario Giuliacci, il tempo è previsto per sabato 28 marzo, un vortice di bassa pressione ancora presente sul basso terreno insisterà anche nella giornata di domani e sabato sulle regioni meridionali, ma con fenomeni modesti soprattutto al centro-sud. Allora, come potete vedere da questa immagine delle nuove su tutte le regioni centro-meridionali, le piogge deboli, intermittenti, ossia che vanno e che vengono sulle regioni centrali, tranne la Toscana, sulla Calabria, la Puglia e la Sardegna. Le temperature saranno lieve caro di tra 1 e 2 gradi su Marche, Abruzzo, Morese e Puglia, massima intorno a 12-14 gradi sulle regioni di nord-ovest, 13-15 gradi sulle regioni di nord-est.